Siamo qui per condividere insieme alle altre associazioni quello che è l'obiettivo principe di bloccare il progetto di discarica a riceci. Vogliamo aggiungere però una cosa molto importante perché noi se questo progetto verrà realizzato in qualsiasi altro luogo noi saremo ugualmente contrari perché questa non è la battaglia della localizzazione del progetto ma qui dobbiamo avere la forza di dire no a qualsiasi progetto che nasce con l'obiettivo di fare utili. A danno di cosa? A danno del nostro ambiente, del nostro territorio e della salute dei cittadini. Quindi che sia oggi una discarica dei ceci, un digestore anaerobico a Vallefoglia o domani un inceneritore non sono queste le soluzioni per la nostra provincia e per il nostro territorio. Quali pensate che possano essere magari le soluzioni? Sicuramente dobbiamo invertire il senso di marcia, iniziare ad attuare una pianificazione che al momento non c'è e soprattutto dobbiamo incentivare al riuso, al riciclo, alla raccolta differenziata e soprattutto sensibilizzare i cittadini a ridurre anche la produzione stessa di rifiuti. Un progetto di cui ribadite la contrarietà oggi in questo sit-in qui davanti alla sede di Marche Multiservizi? Sì, un progetto nato male, in modo poco chiaro, dannoso per tutta la provincia e nel posto più sbagliato che si potesse immaginare. Siamo nettamente contrari ma soprattutto per come si è sviluppato questo progetto crediamo sia il caso di bloccarlo, fermarlo, annullarlo e anche chiediamo le dimissioni dell'amministratore delegato che ha proposto e che è stato il primo promotore di questo progetto. Avete anche nei mesi precedenti riportato anche questa poca trasparenza che c'è stata nell'acquisizione dei terreni? Assolutamente sì, noi abbiamo saputo tutto questo da voci di corridoio, da agricoltori che a un certo punto si sono trovati a casa delle persone che chiedevano terreni a cifre molto molto interessanti e quindi è stato un passaparola tra cittadini, tra locali. Il progetto innanzitutto nasce in un luogo inadatto perché è stato pubblicizzato da Hoffman dieci anni fa come le bellezze delle marche e il territorio marchigiano. Dopo dieci anni andiamo a crearci una discarica di 5 milioni di metri cubi e sembra una cosa illogica. Si produce prodotti biologici, ci sono aziende che producono biologico per dare alle nostre aziende che producono il latte, il formaggio e tutto il resto. Chiediamo che questo progetto venga ritirato perché non è ammissibile continuare ad andare contro a un legittimo istinto cittadino che è quello di difendere una delle vallate più belle che veramente abbiamo. Non lo dico in maniera retorica perché avendo girato un po' il territorio posso dire che Riceci per la sua strada, le sue colline, incastonato tra Monte Fabri, città, Borgo tra i più belli d'Italia e Urbino è inamissibile avere una discarica lì in mezzo.